Come non è uscita? Boh, a me è uscita, a me mi sta trasmettendo Capito Prova ad andare sul gruppo? Ho capito Ecco, io oggi sto sfidando il mio capitano del club, il Shadow Mountain Non è che sto trasmettendo quindi occhio eh, occhio che ne buschi tanti Minchia è messo, faccia di merda, quanti schiaffi ti do Faccia di minchia oh Minchia c'hai cazzo, 93 la minchia in culo La mia squadra c'è dentro il culo C'è il fisco dell'arbitro, comincia dunque l'incontro Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi L'allenatore ha deciso di schierare le due punte e giocherà con un 4-3-1-2 col trequartista Il vertice basso del rombo di centro campo dovrebbe fungere a tutti gli effetti da schermo davanti alla difesa e fuori Occhio al tiro di Messi, splendida parata in tuffo del quartiere Oh, l'abito rosso Non c'è un minchia Guarda il passaggino no Si ripartirà con un calcio d'angolo No, dai, vicendino Oh, tu Ma l'ha ucciso, l'arbitro Ma che f***o Ma adesso, minchia, è uscito adesso dopo poco tempo Mario Rui Totti Guadagna metri verso l'area Miang Vince il contrasto e recupera il pallone Messi I love you Messi I love you Messi I love you Messi Totti Va bene Va bene Donnarurma Grazie Totti Va bene Deviazione Calcionante Il capitano di Shadowland si brucia un'occasione davanti alla... Porta 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 Adesso fa i gol di terza tanto E' chiuso il buco E' chiuso il buco già Ok Totti Pericolo Ecco il tiro E' un'occasione sprecata E' un vero peccato Totti 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 Mi ha guardato in gruppo, peligro attivi, eh. Si avvicina all'area, palla che filtra benissimo, pavoletti, portiere che si allunga e sventa la minaccia, tiro dalla bandierina per la formazione avversaria, massima concentrazione in difesa. Boh, non so, dopo provo a guardare l'impostazione. Chi? Punta l'area Grande chiusura difensiva Ho capito cos'è questo ciccione Sto stai capendo quel boda Totti Miang L'appoggia ancora su Totti Baragna Metri Palla vagante adesso Ottima chiusura difensiva Messi Palla recuperata azione interromta Ci sono metri a disposizione No ai Popoletti madò Arbitro che concede il vantaggio L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore Perché Buonaventura Vi tirare io a un gruppo dici Allontana il difensore su questo tiro Cucca Totti Tocco di ritorno Bravo qui il difensore Recupera un buon pallone Occhio al suo movimento Parte il tiro Il portiere in presa sicura Palla nuovamente in possesso Occhio al tiro Palla che termina lontanissima Dalla porta difesa dal portiere Di testa per il compagno Ha perso il pallone Azione interrotta Baragna Metri verso l'area Occhio di azione interrotta Occhio al tiro di Messi E' efficace Qui è il portiere Che concede qualcosa Anche ai fotografi Nessun dubbio Dopo il vantaggio Arriva il cartellino giallo L'azione proseguita per il vantaggio Ma il fallo Il fallo era troppo brutto Per poterlo ignorare De Rossi di fisico Recupera il pallone Nyang Quarto uomo Esibisce la lavagna Tre minuti di recupero Pjanic Sventa qui la minaccia Bruno Perez Nyang Sbaglia il passaggio Totti De Rossi Totti Chiellini Attenzione Perché Ci ha rimediato Il cartellino giallo Occhio Cerca l'area di rigore Perde palla Ottima lettura difensiva Griezmann Ma cosa cazzo fa? Occhio al tiro Tutta la sua rabbia Per l'occasione mancata Anch'io sarei molto arrabbiato Abbastanza comprensibile Panna merda Si avvicina l'area Si avvicina l'area Si avvicina l'area Cercano spazi Buon recupero del pallone Ma dai Dopo un'ora Ma si potrà mai Hai capito Ma fischia subito Marchisio Kuczka Lo ferma ma non controlla Ci sono metri a disposizione Ottimo il tocco Kuczka Madone Vabbè Kuczka Cosa è un 78 Questo uomo Serve il compagno Numero Baragna metri Palla in mezzo Dopo un buon intervento La difesa recupera il pallone Interrompendo l'attacco Arbitro Si sono dei cadaveri Ma Scelta giusta Grande pallone verticale Riconquista il pallone Messi Pjanic Occhio al suo movimento Tibala Non si fa sorprendere I due portieri Stanno facendo Veramente una bella gara E grazie a loro Se siamo ancora Sulla 0 a 0 E c'è il tiro Deviazione Calciolato Grande chiusura difensiva Messi Arriva l'intervento Dell'arbitro Ancora 20 minuti Per le speranze Delle due squadre Marchisio C'è spazio Per andare Occhio al lancio Per Messi Trova la bocca Inculata pazzesca Ha fatto un ritro passaggio Ma minchia Mi siamo rontati Un tiro Preciso Il portiere Non ha potuto nulla Ci vogliono dei piedi Di riscatti Come i suoi No la presa La presa La spizzicata C'è voluto tempo Abbiamo aspettato la ripresa Ma è arrivato Il primo gol della gara Occhio perché l'arbitro Potrebbe anche estrarre Un cartellino Totti Palla lievemente corta Un altro ottimo passaggio Buona la trama Miang Una prova andare Palla in out Sarà corner Buffon Allontana di pugno Puttana Un portiere che sta dimostrando Una forma smagliante Miang Ottima lettura Recuperano il pallone Di bala Occhio cerca L'area di rigore Nessun problema Con l'uscita Del portiere Siamo entrati Negli ultimi Dieci minuti Riesco a malapena A sentire la mia voce Perché il pubblico Di casa Sa che questa Può essere la svolta Della gara E la quantità Di decibel È cresciuta Stanno letteralmente Trascinando la loro squadra Verso il corpo Cambierebbe il risultato Ha un'autostrada A disposizione Palla pagata Di bala Buonaventura Di bala Respinge il difensore Ha spazio Prova Tira il respinto Ha ricompisato il pallone Con un intervento Ottimo Che calipa In un momento cruciale Del match È giovane È giovane Battuta Palla che finisce l'anno L'aliena che è dovuto Trovare la porta Mario Rui Ci sono metri A disposizione Lo ferma Ma non controlla Battono Velocemente La tush Tentano La caccia Della sorpresa Hanno regalato il pallone Su questa rimessa Ha recuperato il pallone Senza difficoltà Di bala Pubblico di casa Felice Dell'entità del recupero Che non è L'arbitro Ha qualcosa da dire A giocatore Cazzo è niente Ha rischiato L'intervento in scivolata Ed è andata male Qui il pallo c'è tutto Il replay come vedete Evidenzia L'intervento Falloso in scivolata Deve frenare La sua erroenza Evita il contrasto E comincia Un'altra azione Importante A caccia del pari Buono il recupero Possono ricominciare Prova a sorprenderlo La tensione Ci sarà questo Calcio d'angolo Questo è il dato Sui calci d'angolo Manolas Non ci credo E l'arbitro Fischia la fine dell'incontro 1-0 Non è andata male Vagia però C'è la prateria Per andare Messi Non è andata male Interrompo